Cambiamo argomento, un accordo a sostegno delle micro-imprese e imprenditoria femminile, siglato questa mattina un accordo tra la Banca di Credito Cooperativo di Napoli e l'Ente Nazionale per il Microcredito. Sentiamo Antonio Salamanta. La crisi economica che deriva dalla pandemia ha penalizzato soprattutto le piccole imprese, quelle micro, ed anche e soprattutto l'imprenditoria femminile. Ma arriva un accordo importante per la disciplina dei rapporti tra Ente Nazionale per il Microcredito e la Banca di Credito Cooperativo di Napoli relativi all'attuazione di progetti di microcredito e a servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio relativi proprio a finanziamenti a sostegno delle piccole e medie imprese ed anche e soprattutto delle donne. L'imprenditoria femminile talvolta ha difficoltà a autogestirsi e a crearsi per le motivazioni di mancanza di liquidità, per la mancanza di garanzie, ma soprattutto per l'assistenza professionale. Ecco, l'accordo con l'Ente Nazionale Microcredito e grazie all'opera di Mario Baccini riusciremo a dare questi elementi contemporaneamente, una vera nominità per il nostro territorio e questo consentirà soprattutto di combattere quella crisi e quella fuga di cervelli che inevitabilmente sta determinando una desertificazione intellettuale nei nostri territori. Oggi si apre una nuova pagina grazie alla BCC di Napoli perché tutte quelle persone che fino a oggi vivono in una condizione precaria per difficoltà, l'Ente Nazionale per il Microcredito insieme alla BCC di Napoli potranno assisterle grazie ai nostri tutor, ai servizi di accompagnamento e dare un prodotto che fino ad ora non c'era.